Cosa ho appena visto? Tutto mi aspettavo tranne che l'apparizione dei lieni. Ma questo è Babbo Natale? Ma fra, ma perché c'è Babbo Natale? Questo gioco è assurdo. Sono passati insieme Babbo Natale e lo spirito di Elvis. Nella mia vita da youtuber ho giocato un'infinità di simulatori, alcuni belli e alcuni stupidi. Surgo Simulator, Thief Simulator, Cooking Simulator, Boost Simulator. Evidentemente sono giochi che piacciono tanto e in particolar modo quello di oggi è amatissimo dalla sua community. Sto parlando di Gas Station Simulator. Essenzialmente un simulatore di vita da benzinaio. Io non so cosa aspettarmi. Prima di cominciare vi ricordo che tutti i giorni da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 7. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti nessun contenuto video, short e live. Ed ora avviamo il gioco. Da qualche parte sulla Route 66. Ma che fico, ma siamo sulla strada che ci porterà Radiator Springs, la città di Saetta McQueen. Cacciao! Aha, e questa sarà la nostra magica stazione di servizio. Che bella! Dust Bowl si chiama. Ciotola di sabbia. E beh, allora, ascolta. A me sta bene il fatto che tu ti sei appena trasferito nel bel mezzo del nulla per gestire una stazione di servizio in mezzo al deserto. Però, potevi almeno sincerarti di avere un letto un attimino più comodo, una situazione di vita un attimino più decente. Ma soprattutto, perché dobbiamo proprio vivere in un sottotetto in cui venivano svolti i riti satanici? Dai, per favore! Sembra che quel maialino sia la divinità a cui dobbiamo sacrificare, che ne so, le anime dei nostri clienti. Ho preso il maiale. Cosa faccio col maiale? Lancia il maiale. Ho lanciato il maiale. Fico! Devi capire come entrare nella stazione di servizio e suggerimento... Ok. Yeet! Ah! Così, un achievement. Alla prima botta ho fatto canestro. Yeet! Oh! Quasi, però! Aspetta, aspetta! Fammi riprovare, fammi riprovare. Lo so che il gioco non è questo, però è fico. Cioè, se ce la faccio mi sento super tosto. C'è quello al di là della casa, ti prego. Facciamolo. 3, 2, 1... Vai! Dove l'ho cacciato? Dove è finito? Oh! Non qui dentro. Non so che fine abbia fatto. Vi giuro, non lo vedo più il sacchetto. Eh, vabbè. Andiamo nella stazione di servizio. Wow, che bello. Immagino che su YouTube non si vedrà niente. Che fico. Ma non potevi farmi cominciare, tipo, che ne so, alle 7 del mattino? No, alle 4 di notte, per favore. Mi sono cagato in mano, maledetto uccello a cucù. No, orologio a cucù. Uccello non c'entra niente. Segui il cavo dell'alta tensione e trovo modo per attivare l'elettricità. Ok, frattemo. Eccolo qua. Aha, sei tu. Seguilo, seguilo, seguilo. Vediamo dov'è il problema. Sarà mica quel traliccio laggiù. Non c'è nessun traliccio. No, però è tutto gestito da questo singolo generazion spaventato. Non mi aspettavo la cutscene e contemporaneamente il rumore. Eh, vabbè. Cos'è questa musichetta incredibilmente 8-bit? Chi è che sta giocando a Castlevania qua dentro? Ah! Non ho soldi per giocare a Car Frenzy. Eh, vabbè. Ripperotti. Non ci credo. Non ci credo, posso anche fare le gare con le macchinine. No, ma questo gioco è bellissimo. Congratulazioni per il tuo acquisto e investimento, nipotino. È da un po' che non senti la mia voce, vero? Sì, sono una persona impegnata, ma la fortuna vuole che il terreno che hai acquistato sia appartenuto a mio padre. Zio, non me ne frega un cazzo. Ah, ma questo qua è il mio computer. A cosa è collegato? Cioè, a me sta bene che io... Mamma mia, che schifezza. A me sta bene che abbia dovuto riattivare il generatore. Però, cioè, il PC non mi sembra attaccato alla corrente. Dovrebbe funzionare lo stesso. Scusatemi, cosa significa il fatto che una mail commerciale inviata da mio zio inizi con Dagli e raga. Questa cosa è bellissima. Sali sul mini escavatore, suggerimento il suo nome è Rudy. Cioè, a meno che l'escavatore non sia un effettivo signore di nome Rudy... Cosa cambia se conosco il suo nome oppure no? Eh, ok. Ma il nostro obiettivo è rimuovere tutti quanti... Cazzo! Sono una stanzione di benzina senza benzina! Ho bisogno di una tanica, una tanica, una tanica. Fiore blu, spine rosse, fiore blu, spine rosse. Ah, ma quindi funziona! Effettivamente ho del carburante qua, che fico! Sì, va bene, avrei versato a tre quarti fuori, ma va bene, va bene, fra. Andiamo a togliere i cumuli di sabbia davanti all'ingresso. Ah, quella roba lì, perfetto, salve. Ehm, no, non penso basti passarci sopra. Non sto capendo come funzioni, aspetta. Tieni premuto il left mouse button per scavare. Ma io lo sto facendo. Guardate, vi giuro che lo sto premendo il tasto, ma se vado avanti non scava via una sega. Ma cosa vuol dire? Ah, adesso raccoglie. Ma perché prima no? Ma what the fuck? Vai, 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 scarica tutto nella discarica di sabbia, che fico. Ma che bello, ma funziona benissimo questa mini-pacchera, che bello. Comunque sto roba è incontrollabile, ve lo giuro, non capisco. E mi si sta anche per scaricare completamente il serbatoio, gran figata. Penso che il boy sia ufficialmente morto. Ehm... Ah, devo semplicemente attivare, o meglio, aprire la stazione di servizio. Che fico! Wow, la tecnologia già. Questo pulsante resetta il traffico in caso di problemi. Cioè? Sì. Cosa ho appena visto? Tutto mi aspettavo, tranne che l'apparizione dei lieni. Devo fare ordine di carburante. Ok, ma io non ho soldi. Ok, posso... Posso ordinare. Perfetto, non so con quali soldi, ma va bene. E ora cosa dovrei fare? Dovrei davvero giocare a sto coso? Ma perché? Finisci la corsa in meno di un minuto e 15 per ottenere 20 euro di premio. Fico, subito! Fanculo. Dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Corri, corri fra. A sinistra, passami sotto. Bravo. Bravo. Wow. Ok, va bene, ho premuto barra spezzetticine per sbaglio. Yeet. Forse è stata un'idea di merda. Ho 25 secondi per finire tutto quanto. Please. Eh, vabbè, è finita, è finita. Esci dall'auto e corri perché c'hai un cliente. C'hai un cliente. Bro, tu sei il porta benzina. Dov'è finito l'amico? Ciao, fra. Aspetta che mi suggo tutto quanto, eh. Fammi suggere. Mamma mia, che senso che mi fa quella roba. Vabbè, guarda come è tutto un molliccio, tutto quanto. E comunque c'ho un cliente a cui fare benzina. Salve. Oh, eh, agente. Patente libretto. Haha, molto divertente. Come ne faccio benzina? Non esiste il service, cazzone. Vabbè, dai, ce l'ho quasi fatta. Grazie, agente. Arrivederci. Buona giornata. Si, 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 si diverta. Mamma mia, tra un po' ti buco le gomme, bastardo. E grazie per avermi consegnato cose, signore della benzina. Stanno succedendo troppe cose contemporaneamente. non sono psicologicamente pronto. Ti prego, svuotiamo sta cosa. Oh sì, ho un sacco della spazzatura stratopico. Come lo uso? Così. Posso raccogliere cose. Che bello! Si fa la polizia! Signorina, perché ha il cappellino di Babbo Natale, lei? Ma siamo al 4 di ottobre, ma lei è completamente pazza. Questi erano precisi. Arrivederci, signorina. Mi raccomando, guidi con prudenza. Sì. Vabbè, non mi sembra una persona adatta a guidare con prudenza. Arrivederci! Mamma mia, che rincoglionita. Cobi! Cazzo. Oh! E invece ce l'ho fatta. Oh! Buonasera, salve, scusi. Stavo facendo un po' di pulizia. Aspetta l'ordine del cliente. Il cliente mi può succhiare le pa... Scusi, signora, non volevo. Signorina, faccio il pieno? No, nessuno che vuole il pieno. Giusto un paio di litri. Mamma mia, ho ricevuto pure la mancia perché è stato perfetto. Grazie mille, signorina. Mi raccomando, facciala brava. Che è che ha sparato? Compra la scopa ed equipaggiala. Farà una roba per volta. Non ho neanche finito di svuotare. Cazzo scopo qua. Mi sa che ho un nuovo cliente, vero? Ma salve, signore della notte. Come stiamo? Ma perché tutti quanti con il cappellino di Natale? Mamma mia, che precisore. Quattro dollari di mancia. Ciao, fra. Buonasera. Ti è seduto in aria. Che cazzo? Fra, ma perché c'è? C'è un fantasma di un rocchettaro? Ma cosa min... Eh? Elvis! Ciao, Elvis! Ma quindi non sei morto? Oppure sì? E ora il suo spirito vaga irrequieto per... Per questa stazione di servizio meraviglioso. Ma che cazzo? Ma questo è Babbo Nat... Ma fra, ma perché c'è Babbo Natale? Questo gioco è assurdo. Sono passati insieme Babbo Natale e lo spirito di Elvis. Ma guarda quanta merda che c'ho qua. Oh, scusi! Da quant'è che è qua, lei? Scusi, signorina. Non me ne ero accorto la sua presenza. Eh, mi spiace. Grazie. Smasci like anche lei, mi raccomando. Camioncino da hippie, quanta benza vuoi? Beh, dai, abbastanza. Sono stato perfetto! Mamma mia, si goda il viaggio in auto per la Route 66, buon uomo. Mi raccomando, si fermi per dormire, però. E comunque qua ho praticamente svuotato tutto. Fammi giusto liberare di sta merda. Cos'è che posso comprare la scopa? Che bello! Posso scopare! Uh! Si scopa! Ho fatto la battutona, regà, lo so. Grazie, sono il migliore. Mamma mia, è noioso proprio come in real life passare la scopa per terra. È incredibile. Ordina la raccolta dei rifiuti. Cazzo! Quella mi servirebbe. Sì, sì, sì. Ti prego, vai. Evento Dennis. Apparirà occasionalmente alla stazione e dipingerà gaffetti sui muri fermo o lasciando gli addosso degli oggetti per spaventarlo. Fra. Aspetta che arrivo. Bro, non ti azzardare ad avvicinarti a me! Non ti azzardare! Bastardo, figlio di puttana! Ti lancio addosso un tavolo! Scappa, cazzone! Brutto vandalo! Oh, ho un cliente. Scusi, scusi, abbandono il tavolo lì dove era. Eh, salve. Quanta benza ha bisogno, signor Calvo? Non tanta, eh. Non tanta, verità. Pochina, pochina. E questo qua è l'omino che carica i rifiuti! Aspetti! Aspetti! Ho un tavolo! Ho un tavolo! Ho un tavolo! Ho un tavolo! Ciao, Fra! Aspetta! Bravo che hai svuotato tutto, anche se non ho ben capito cosa tu stia facendo. Sta facendo le magie e ha svuotato qua. Clamoroso, Fra! Primi left shift per la scelta dei colori? Wow! Ho quattro colori in croce, che bello! Vai con questo che almeno ha un minimo di senso. Arrivederci, umino delle mondizie! Alla prossima! Mamma mia, ho 14 cose da fare, non sono psicologicamente pronto per nessuna di queste. E muoviti! Eeeh, tu ne vuoi un botto. Dai, sono stato perfetto. Grazie per la turbo mancia, amico. Arrivo a farle la benza, amico! Se no si arrangi. Io lo devo semplicemente finire di dipingere. Ecco fatto. Madonna, ma questo qua è qua con la 500. Ma tu hai una Fiat 500 degli anni 80. Bellissima. Aspetta che ti riempio per bene. Grazie, amico! Alla prossima! Eh, c'hai il cappellino illuminato. Fra, ma che figata! Anch'io lo voglio. Ah! Incredibilmente, fare benzina è la parte più entusiasmante di tutto questo. Perché tutto il resto è di un lento, di un noioso. Guarda quanto ci metto a dipingere una singola parete. Dai! No, l'ho anche fatto il colore sbagliato! Che stupido. Ma comunque il lavoro non sta andando male. Cioè, nelle prime 24 ore circa ho fatto quasi, e dico quasi, 500 dollari. E sicuramente quella soglia verrà superata non appena avrò fatto benzina a questo coso qua. 3, 2, 1, bop! Grazie mille! Mi hai detto bello? Lo so, sono il migliore. Usa il grimaldello per scassinare la macchina. Perché vorrei scassicare la macchina? Ah, è tipo Skyrim. Ok, bellissimo! Wow, che bello! Una fotografia di questa stazione di servizio negli anni 30. Bellissimo! La voglio appendere qui, dietro alla cassa. Wow! Davvero molto, molto bello. Compra due scaffali. E se non volessi? Stronzo. Devo, anzitutto, farmi consegnare della benza. E in secondo luogo, devo anche comprare un paio di scaffali per bevande analcoliche e spuntini. Vai, vai, vai. Splurgia un po', splurgia un po'. Oh no, è di nuovo il polizietto di ieri? Fra un giorno ti sparo alle gomme, giuro. Ma per il meme, eh. Così ci facciamo due risate, poi mi arresti, mi porti in carcere, passo lì 30 anni. Dai, ci sta. Grazie mille, signor poliziotto. Urca miseria. Un po' grossi sti scaffali, se posso permettermi. Eh, dove cazzo lo metto, però, mo? Questa è la parete giusta su cui appoggiarlo. Però mi sembra che stia un po' in mezzo al cazzo. Vabbè, dai, poteva andare peggio comunque con sti due scaffali. Ho fatto il mio lavoro. Salve! Mi spezza che abbiano tutti quanti il cappellino natalizio comunque. Non è manco Halloween. E compro uno spazio di parcheggio aggiuntivo. Come faccio a comprarlo così tramite PC? Sì, compra questo che è gratis. Sei scemo che spendo soldi. Non si può fare una qui... La vita è sulla mierda. Allora, fermi. Mentre mi occupo di questo, magari, chiudiamo temporaneamente la stazione di servizio. No, frate, scusa! Vabbè, è aperta solo per te. Dai, vieni. Signorina, salve! Come stiamo? Quanto vuole di benzina? Giuro che se vuole tipo tre litri e mezzo, io la sbatto fuori. Ma poi perché scendi? Ma che cazzo c'è? Ma stai a bordo! Salga a bordo, cazzo! Ah no. Ah, davvero? Se n'è andata? Perché avevo detto chiuso, però lei era già entrata e quindi ha dovuto far manovre, tirar dritto. Che palle, chiudi. Wow. Allora, teoricamente in questo momento è completamente vuota la zona parcheggio, ma rimane una piccolissima pocket di sabbia là dritto davanti a me. Non so se abbia a che fare col parcheggio. Io, per non sbagliare, la tolgo. Ah, ce l'ho fatta. Il parcheggio è completamente vuoto. Ora, fatemi avviare per l'appunto i lavori per realizzarlo. Acquista. Ah! Tutto sto casino per sti tre cosi! Ma cazzo! Mio zio mi sta chiamando. Che minchia vuole? Devo picchiarlo. Salve, vedo che gli affari vanno bene. Ti chiamo per congratularmi con te per bla 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 bla. Ho chiesto ad alcuni dei miei di consegnare delle scorte extra per quei tuoi scaffali vuoti. È ora di parlare di soldi, però. Mi devi... Beh, ti manderò la fattura alla tua mail. O no. O no. Lo zio, secondo me, non è veramente mio zio. È... Come dire? Uno zio degli abitanti della zona che in realtà, però, è un... È un criminale malavitoso malfattore. Maledetto infingardo, per giunta. Fammi vedere sta fattura, va là. Vediamo che turbo ci avada. Oh! Ciao nipote, ti scrivo questo per poter finalmente pareggiare i conti. Mi devi 3200 dollari. Alla faccia del cazzo. Va bene, dormire è per i deboli, raga. Staremo svegli un altro giorno. Anche perché in questo momento è coperto dalla webcam. Ma io devo allo zio 5000 dollari nei prossimi 4 minuti. E io come li faccio? Salve! Qualcuno vuole il mio culo? Salve! Hello! 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 Si fermi! La prego, no! Sono 500 euro il culo! 500 euro il culo, giuro! Giuro! Anche lei! Tu hai la faccia di uno che il mio culo lo vuole come. Dai, ti faccio lo sconto. Solo 400, please? Please? Solo 400? Ah! Come si dice dalle mie parti? E sto infotuto! Fra, benvenuto! Salve! Si fermi! Si fermi per riprendere un attimo le energie! Venga a rifocillarsi! Venga, venga! La accompagno alla cassa! I miei salvatori, vi prego, spendete un pacco di soldi, please! Brother, è di qua l'ingresso, è di qua, è di qua, è di qua! Bravissima! Salve, buonasera! Che bello, in questo momento lo sto impersonando Apu dei Simpson. Dove cazzo vai? Cioè tu sei venuto qua per buttare le immondizie. L'importante è che compri qualcosa, eh? Va bene. Primi left shift per iniziare il gioco, cioè... Oh, cazzo! Non ho capito, non credi proprio cosa! Ok, forse ho capito, devo muovermi. Devo raccogliere le cose? Mamma mia, sono stato velocissimo sto giro! Eh, è il tuo gemello! Ciao amici! Scusi, ho qualcuno che vuole la benzina! Sono più soldi! Guarda quanti, guarda quanti, guarda quanti ne vuole! Vabbè, dai, ho esagerato un attimino. Belle tettine! Le mie sono più belle però. Eccomi, scusi, è che sono da solo, sai? È un casino far tutto da soli. Ce l'ho fatta! Peccato che io sia soltanto a 565 dollari e ho 37 secondi. E stoi fotuto! Guardi, signor zio, se vuole io glielo posso anche dare il presido, ma posso pagarti davvero molto poco. Eh, ho 14 secondi, devo ancora 4.000 soldi e io non ho più soldi! Il tempo è scaduto, non sentirti in colpa per questo, non ne hai avuto molto comunque. E lo so che ne ho avuto pochissimo di tempo, che cazzo? Io ho fatto il possibile, però viene a gambizzarmi que... Oh no, lo zio mi sta chiamando. Scusi, eh, c'è qualcuno qua? Sì, lei faccia spese, io rispondo allo zio, un secondo. È un attimo! Oh no. Oh no, questo è uno dei brutti dello zio! Ah! Fra te! Ma ti sembra? E quindi finisce così il primo capitolo? O è addirittura game over? Ma che cazzo? Oh no, questo è lo zio che viene a trovarci. Ok, non è mio zio. Ufficiale. Minchia, regà, che cinematografia incredibile! Lo zio si accende il sigaro e poi ce lo spegnerà sulla coscia. Starà parlando oppure me lo sono immaginato? Gli ho visto le labbra muoversi ma non ha detto niente. Vabbè, forse non l'ho sentito, sono svenuto. Madonna, in che casino ci siamo impelagati, frate Maro! Ehi, nipote, di nuovo in piedi. Spero che la testa non ti giri più. C'è stato un errore, uno grave. Puoi stare tranquillo sapendo che fare in modo che i responsabili si occupino della giusta punizione per quello che è successo. Il tempo di scadenza del tuo prestito di investimento era troppo breve rispetto all'importo. È semplicemente un cattivo affare e io non prendo decisioni del genere. Dimentichiamo questa sconfitta per il momento. Come segno di pace ti prego di accettare questo piccolo regalo. Ti aiuterà con la prossima consegna senza condizioni. Tuttavia in qualche modo dovrete rendere il magazzino di nuovo operativo per riceverlo. Se un ragazzo è risoluto troverai un modo. Frate, però un attimo, una cosa alla volta. Potenziamenti. Posso potenziare cose, sblocca cose, vai. Richiesto ulteriore progresso nelle missioni. Dove lo vedo come progredo nelle missioni? Come progredi, come progredo, mamma mia che brutto italiano. Sono il migliore, sono il più forte. Auto abbandonata Onibi gialla. Acquista. Eh? Ah, ho comprato un punto di interesse. Quella lì. Beh, gran bel punto di interesse effettivamente. Sì, sì. Quindi ora posso effettivamente potenziare la stazione di servizio. Aspetta. Ah, yes baby. Ho aggiunto nuovi pezzi che non sono dipinti nel modo in cui avrei voluto io. Che merda. Eh, vabbè. No, no, no! Non lo accetto questo, non lo accetto. Ma cosa vuol dire... Ma vaffanculo. Cosa vuol dire che sblocco più pezzi, ma in quei pezzi che aggiungo c'è più immondizia? Dai, per favore. Ma poi con i mobiletti, gli scaffali messi là, fa cagare. Ma quanto viaggiano i poliziotti in sta città. Non mi danno un secondo di tregua che sia uno. Uno. Arrivederci. Salve, cosa vuole lei, signorina? Buttare via la cingomma, va bene. Madonna, l'ho chiamata cingomma davvero? Che schifo, fra. Dai. Apri se... Oh, no. Un vero momento. Cinque notte a casa di Frederico. Eu. Il cesto come è messo? Chiedo per un amico. Non posso guardare. Eeeh, cassa! Allora. Apri cancello 1. Tieni chiuso il cancello del tuo magazzino, altrimenti qualcuno potrebbe derubarti. E' un attimo! E che è tutta sta merda? Ok, tutto molto bello, tutto molto carino, però... Arrivo! Due secondi, figa! Che cazzo suoni, stronzo? Vengo lì, ti spacco le gambe. Allora, tutto molto bello, il gioco è incredibilmente carino, ma mio Dio! Spero vivamente che fare il benzinaio non significhi questo, altrimenti so già che lavoro non fare una volta che smetterò di fare lo youtuber. Ah, mio Dio, quanto stress! Sì! Grazie a tutti.